38.541 infortuni denunciati in edilizia nel 2021, in aumento del 17,7% rispetto al 2020, fortemente condizionato dalla pandemia. Nel 2021 la crescita degli occupati, più 7,7%, è stata accompagnata dall'incremento di incidenti, più 17,7%, e patologie denunciate, più 28,2%. Nel corso degli ultimi 5 anni le denunce di malattie professionali sono cresciute di anno in anno. Tra queste le denunce di tumori di origine professionale, che si attestano in media al 4% a livello nazionale. Incidenti sul lavoro e dati INAIL per lo scorso anno segnano una situazione ritenuta grave da associazioni di categorie e sindacati. Di questo si è parlato durante la tavola rotonda targata Formedil, la sicurezza tra i banchi di scuola, proprio per sensibilizzare i giovani studenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione, soprattutto nell'edizia, si crea negli istituti scolastici, nella sensibilizzazione dei giovani, a seguire con attenzione i processi della sicurezza, che sono dei veri e propri processi di ingegneria nell'organizzazione del lavoro e nella gestione dei lavori. Per ogni impresa la sicurezza è un valore, è un valore etico e morale. Le scuole sono per noi un interlocutore importante. Noi abbiamo progetti sulla sicurezza nelle scuole da diversi anni. Voglio segnalare in particolare che quest'anno noi abbiamo avviato un progetto sulla sicurezza nei percorsi che prima si chiamavano di alternanza scuola-lavoro, ora si chiamano PTCO, ma si capisce meglio se parliamo di alternanza scuola-lavoro, proprio per garantire maggiore sicurezza ai ragazzi che vanno a fare questa esperienza nelle aziende.